Nonostante il via libera del governo alla manovra raggiunta dopo un vertice fiume a Palazzo Chigi, restano ancora forti le divergenze all'interno della maggioranza. Renzi prova ad intestarsi il successo per lo slittamento delle tasse, ma il segretario del PD Zingaretti sottolinea che ad aver vinto è stato il Paese. Il decreto all'Italia entra in manovra grazie ad un pacchetto di una trentina di emendamenti dei relatori depositati in commissione bilancio al Senato, da domani il voto in una corsa contro il tempo per chiudere entro Natale con la riduzione e il rinvio della plastic e sugar tax e rimane il nodo delle coperture. Ovazione più di 15 minuti di applausi per la prima stagionale della Scala con la Tosca di Giacomo Puccini, l'apertura del Sipari è stata preceduta da un applauso di 4 minuti di tutto il teatro all'apparire del Presidente della Repubblica Mattarella nel palco centrale. Prima sconfitta della stagione per la Juventus ieri sera con la Lazio, 3-1 il risultato finale per i bianco celesti, sempre più terzi in classifica. L'Inter invece allunga a due punti il vantaggio sulla Juventus. Agli europei di nuoto in Vasca Corta è sempre festa per l'Italia, oro per la Carraro nei 100 rana, argento per la Pellegrini nei 200 stile libero. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Della 7, dunque raggiunto l'accordo sulla manovra, restano comunque alcuni atteggiamenti, quanto meno di divergenza, con un Renzi che cerca di intestarsi il successo per lo slittamento delle tasse. Un Conte che lo richiama un po' all'ordine dicendo che è stato il risultato di un lavoro di tutti. Anche il PD Zingaretti rilancia sul risultato corale e ha vinto l'Italia, dice Zingaretti. Adesso però la manovra deve proseguire, il suo iter e i tempi sono davvero serrati. Nella maggioranza, trovata l'intesa generale sulla manovra economica, che da domani inizierà il suo iter in commissione al Senato con l'esame degli emendamenti, è l'ora dei distinguo di chi deve intestarsi il successo per nuovi stanziamenti, rinvio, taglio che riguardano plastic tax, sugar tax, auto aziendali, fondi ai vigili del fuoco e altre misure. Le tensioni riguardano soprattutto Partito Democratico e Italia Viva, risiduo dei forti contrasti dei giorni scorsi e Matteo Renzi ad alzare per prima una bandierina e su Facebook scrive Italia Viva ha lottato con forza per evitare l'aumento delle tasse. Dalle auto aziendali fino al rinvio della sugar tax e plastic tax. Il risultato è stato raggiunto, da gennaio ci sarà da fare uno sforzo in più. Ora tutti insieme concentriamoci sulla crescita. È l'unico modo per raggiungerla e sbloccare i cantieri. Finirà come sulle tasse, prima ci criticano, poi ci ignorano, poi ci daranno ragione. Dal Nazareno la contromossa. Ha vinto l'Italia, dice Zingaretti. Con questa manovra abbiamo iniziato a rimettere i soldi nelle tasche degli italiani e investire sul futuro del nostro paese. Ora tutti insieme prepariamo una nuova agenda di governo per lo sviluppo, il lavoro e la giustizia sociale. Di Maio per i 5 Stelle mette in evidenza i 165 milioni trovate per i vigili del fuoco, ma parla di una vittoria di tutto il governo. La pensa diversamente l'opposizione. Così Salvini attacca. Questo è il governo delle tasse. Se le rinvidi i tre mesi, sempre tasse sono. E Meloni twitta. Fenomeni al governo. Annunciano, trionfante, ad aver tagliato l'inviato delle tasse che prima non esistevano e che volevano introdurre loro. Ma per chi ci hanno preso? Per Anna Maria Bernini, Forza Italia, quella da eliminare subito è la Conte Taxa. E dunque dicevamo domani inizia e prosegue. L'iter parlamentare con tempi strettissimi bisogna chiudere entro Natale. Tra le novità presenti all'interno di una trentina di emendamenti che sono già stati presentati in commissione bilancio al Senato, ci sarebbe anche una stretta sul limo per quanto riguarda le seconde case. e spesso si evita appunto di dichiararle come prime spostando fittiziamente la residenza di uno dei due congi. Ebbene, d'ora in poi ogni nucleo familiare potrà dichiarare soltanto una prima casa. Ma vediamo quali sono anche le altre novità. Dopo le estenuanti trattative di questi mesi, la manovra sembra aver preso la forma definitiva. E dunque vediamo cosa c'è di nuovo, cosa è saltato e cosa è slittato. Slittata è innanzitutto la plastic tax, fortemente voluta dal ministro Gualtieri per instradare a comportamenti etici. La tassa sulla plastica verrà introdotta solamente a luglio del prossimo anno e sarà molto alleggerita. Ridotta da 1 euro a 40 centesimi per chilogrammo sarà applicata su bottiglie. Contenitori in tetrapac, imballaggi in polistirolo, detersivi, tappi, etichette. Esenti, siringhe, taniche, contenitori riutilizzabili, plastiche compostabili. Rimandata a ottobre anche la sugar tax sulle bibite zuccherate. Va invece nel cestino definitivamente, almeno così è stato annunciato, la controversa tassa sulle auto aziendali. Dopo la levata di scudi, tutta interna alla maggioranza, su una tassa che sarebbe andata a colpire i lavoratori. Così all'ultimo il ministro Gualtieri, venute meno le risorse previste, ha dovuto reperire in extremis circa 400 milioni. Le ha trovate in parte con una ulteriore stretta sui giochi. Tasse ci saranno sulle vincite derivate da Grattevinci e Superenalotto a partire da 200 euro e non più 500 e aumenteranno su quelle derivanti dalle slot machine. Capitolo aiuti a famiglie e lavoratori. 3 miliardi andranno nel 2020 per il taglio del cuneo fiscale. Importanti novità riguardano i precari della sanità con un piano di stabilizzazione fino al 2022 per coprire le carenze di organico. Finisce nella manovra vera e propria e non più collegato come era il decreto fiscale il pacchetto all'Italia, confermati i 400 milioni di prestito ponte. Intanto sul fronte politico si continua a lavorare in vista delle elezioni regionali. Ieri Stefano Bonacini, il candidato del centro-sinistra che si ripresenta come governatore, ha aperto la sua campagna elettorale a Bologna in una piazza davvero gremita. Presente anche Romano Prodi, ma mancavano comunque tutti i vertici dei partiti. Per quanto riguarda invece il centro-destra, anche lì si continua a lavorare, ma Matteo Salvini è concentrato anche sul MES. Quasi 15 mila, secondo gli organizzatori, le persone presenti ieri in Piazza Maggiore per il lancio della campagna elettorale di Stefano Bonacini. Governatore uscente PD della regione Emilia-Romagna in corsa per un mandato bis sostenuto da sei liste di centro-sinistra. Presente Romano Prodi e anche Mattia Santori, leader delle Sardine, tra la folla ad ascoltare il comizio del governatore. Non ho il simbolo del PD perché tutti i partiti della mia coalizione hanno pari dignità, dice Bonacini, rimandando al mittente, cioè alla rivale leghista Lucia Borgonzoni, l'appello al voto per liberare l'Emilia-Romagna. C'è un vento diverso, dice Bonacini dal palco e saluta Mattia Santori, uno dei quattro fondatori del Movimento delle Sardine, che proprio in Piazza Maggiore, il 14 novembre scorso, avevano dato vita alla loro prima affollata adunata, mentre Matteo Salvini era in città per un appuntamento elettorale a sostegno della Borgonzoni. Un attestato di stima nei confronti delle Sardine, capaci, spiega il candidato PD, di coinvolgere la gente attraverso un linguaggio lontano dalla politica, senza rabbia, maleducazione e astio. Se l'Italia somigliasse di più all'Emilia-Romagna sarebbe un paese migliore. E ancora dal palco l'appello agli elettori 5 Stelle. Ho tenuto aperta la porta del confronto, a loro adesso chiedo se non sarebbe stato meglio confrontarsi sui programmi. La porta comunque resterà aperta anche dopo le elezioni. 5 Stelle che entro domani alle 18 dovranno presentare il loro candidato presidente. Matteo Salvini apre intanto la campagna elettorale per Emilia e Calabria sotto i gazebo in 1300 piazze di tutta Italia, per raccogliere le firme contro il MES e contro la manovra economica. Il centrodestra, che in Emilia sostiene la leghista Borgonzoni, è ancora alla ricerca del proprio candidato presidente in Calabria. Il terremoto torna a far paura in Abruzzo, dove ieri sono state registrate due scosse. La prima alle 22.58 di magnitudo 3.7 e la seconda poco dopo di magnitudo 3.2. L'epicentro è stato individuato a due chilometri dal comune di Barete, in provincia dell'Aquila. Non si registrano al momento da anni. Parliamo adesso del ponte Morandi, perché emergono nuove rivelazioni dai verbali, delle audizioni che ricostruiscono la catena di comando di autostrade. Vediamo. Si trattava di un piccolo investimento, 20 milioni, ma non eravamo consapevoli delle criticità e dell'urgenza. È il 13 settembre del 2018. Da un mese è crollato a Genova il ponte Morandi, con le 43 vite portate via e l'angosciosa domanda, che sorge inevitabile dopo il disastro. Come è stato possibile? Può accadere altrove? La domanda viene rivolta dalla Commissione del Ministero delle Infrastrutture, all'ex amministratore delegato di autostrade, Giovanni Castellucci, che in quell'occasione risponde, cosa che non farà davanti ai magistrati della Procura di Genova, che lo indagano per disastro e omicidio colposo plurimo. E sarà dunque l'unica volta che la D di autostrade dirà la sua opinione sul crollo. I verbali di quell'audizione sono stati pubblicati oggi in esclusiva dalla stampa di Torino. C'erano state segnalazioni di rischio rappresentate anche nella relazione al progetto di ristrutturazione del ponte Morandi, progetto che non verrà mai eseguito. Sì, abbiamo analizzato quel progetto e avevamo invitato per illustrarlo anche il capo della manutenzione, ammette Castellucci, ma al Consiglio di Amministrazione non arrivò mai un'allarme sicurezza particolare. Si trattava ai nostri occhi di un intervento preventivo per migliorare la qualità e la durata di quella infrastruttura. E comunque, sostiene Castellucci, è il direttore centrale operativo che si occupa sulla base di verifiche e monitoraggi degli interventi necessari. Poi, la domanda, avete fatto tutto ciò che era in vostro potere per evitare il disastro? Castellucci risponde che la domanda è troppo generica. Ma come faremo allora ad avere la certezza che tragedie del genere non accadano più, incalzano i commissari del Ministero? Non sono un tecnico, risponde Castellucci, so solo che i monitoraggi c'erano e non abbiamo mai limitato gli investimenti sulla sicurezza. Un dubbio che invece permane anche tra gli inquirenti, che naturalmente hanno in mano questo verbale che contiene anche le risposte, del numero 2 di autostrade. Paolo Berti, una lunga serie di no e non so, quella del direttore operativo di Aspi, come nel caso della domanda chiave. Avete mai realizzato un'analisi di rischio su quel viadotto? Non lo so, risponde l'ex dirigente di autostrade. E adesso gli esteri con la Corea del Nord che torna a far salire la tensione. Vediamo cosa è successo. Abbiamo effettuato un test missilistico a lungo raggio molto importante che modificherà la posizione strategica di Pyongyang nel prossimo futuro. Ad annunciarlo oggi è l'agenzia di stampa centrale nordcoreana. La diplomazia nucleare intensifica così la pressione esercitata sugli Stati Uniti per tentare di sbloccare le trattative. E sebbene qualche passo avanti sia stato compiuto grazie ai vertici tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo Kim Jong-un, organizzati dai due paesi a Singapore, Hanoi e al confine tra le due Coree, l'obiettivo della denuclearizzazione della penisola coreana perseguito da Washington sembra ben lontano dall'essere raggiunto. Come se non bastasse, nonostante le Nazioni Unite abbiano vietato alla Corea del Nord di lanciare satelliti, perché considerati alla pari di un test sulla tecnologia missilistica a lungo raggio, dopo ripetuti fallimenti, nel 2012 Pyongyang aveva messo in orbita con successo il primo, lanciato dallo stesso sito utilizzato nelle ultime ore per collaudare l'ennesimo razzo. Due anni fa un altro satellite nordcoreano ha raggiunto lo spazio. Intanto l'ambasciatore della Corea del Nord all'ONU, Kim Song, ha affermato che la denuclearizzazione è già uscita dal tavolo delle trattative, che non servono lunghi e difficoltosi colloqui con gli Stati Uniti e che per la fine dell'anno sono attese concessioni nella diplomazia nucleare da parte di Washington. A questo proposito, i vertici della Repubblica Democratica Popolare di Corea accusano l'amministrazione guidata da Donald Trump di perseguire una politica ostile nei confronti di Pyongyang e l'Unione Europea, di svolgere da alcuni mesi il ruolo di animale da compagnia degli Stati Uniti. Negli ultimi giorni si sono intensificati gli attacchi da parte dell'esercito del generale Haftar nei confronti di Tripoli, sollevando una grande preoccupazione soprattutto da parte dell'ONU che teme un bagno di sangue e una nuova emergenza umanitaria. Bisogna fermare i combattimenti in Libia, arrivare ad un cessate il fuoco perché la crisi rischia di contagiare anche i paesi confinanti. È l'allarme lanciato dal mediatore ONU per la Libia, Gassan Salamè, a Roma per il Forum del Mediterraneo. Se non si interrompe il conflitto, ha ammonito Salamè, masse di profughi si riverseranno in luoghi come l'Algeria e il Niger, oltre ai tanti che cercheranno ancora di prendere il mare. Ma in questi giorni le strade che portano a Tripoli sono state di nuovo al centro di scontri e bersaglio degli attacchi degli aerei dell'esercito nazionale libico guidato dal generale Khalifa Haftar. Ieri i mig hanno colpito in sei località differenti attorno alla capitale, sono stati respinti dall'antiaerea dell'esercito governativo che ha abbattuto un MiG. È caduto a Zauia, ad una quarantina di chilometri dalla capitale, e sarebbe stato colpito mentre sorvolava Yermucca, solo 15 chilometri a sud dalla centralissima piazza dei martiri. Nelle stesse ore a Roma, al Forum del Mediterraneo, il ministro degli esteri del governo nazionale riconosciuto, quello di Serrage, puntava al dito contro le ingerenze estere che armano e rinforzano con uomini e mezzi l'esercito di Haftar. Dalla parte del generale, che da mesi prova a far capitolare Tripoli, non è mistero che ci siano la Russia e la Turchia. Entrambe le potenze sostengono l'uomo della Cirenaica, tra i cui ranghi ci sarebbero anche mercenari russi. Con l'aumento delle forniture di droni e di combattenti ad Haftar, ha detto il ministro degli esteri Siala, il rischio della caduta di Tripoli esiste. È un rischio che ha evidenziato anche il primo ministro Conte, che ha elencato le criticità legate al conflitto libico, la crisi umanitaria, le oltre 700.000 persone detenute nei campi per i migranti, la minaccia terroristica, l'instabilità della produzione energetica. Per questo, ha ribadito Salame, le potenze internazionali devono superare le divisioni che finora hanno impedito all'ONU di imporre il cessato e il fuoco. Parole importanti, soprattutto in vista della prossima conferenza sulla Libia, che si terrà a Berlino all'inizio del 2020, anno durante il quale la Libia, ha detto Di Maio, presente al Forum, per l'Italia sarà una priorità. E torniamo in Italia, dove ieri sera è stata standing ovation per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha assistito all'apertura della scala, la prima della stagione dove è andata in scena la Tosca di Puccini. Vediamo. Si è aperta così, ancora una volta, con quattro minuti di applausi intensi e affettuosi rivolti al palco reale della scala, a Sergio Mattarella, la prima della stagione del teatro simbolo dell'opera. Questa volta era tosca ed è andata bene, ieri sera, molto, un successo per tutti. Si è meritata tutti gli applausi dopo l'aria più nota entrata nel vissuto musicale popolare italiano e si merita con quella voce, quell'essere in scena, l'appellativo di diva Anna Netrebko, che trionfa insieme al Cavaradossi di Francesco Meli e lo Scarpia di Luca Salsi. Ma è stato anche un successo per il direttore Shea e per il regista Livermore, che ha mosso e messo in luce tre scene grandiosi. Tre ministri, la Morgese, Bonafede e Franceschini, c'era Maria Elena Boschi, ma soprattutto c'era la senatrice Vitaliana Segre, accolta dal sindaco Sala, che sa quanto la sua presenza sia importante per Milano. Dire che è un'icona milanesi è un po' riduttivo, in realtà è una grandissima testimonianza del passato ma anche del presente. Fuori dal teatro, dallo spettacolo, c'era anche il presidio dei lavoratori che temono di perdere il posto di lavoro. C'era l'incertezza dei giovani che hanno cercato di farsi sentire così tra le luci di Natale, in una città che fa festa ma non nasconde i problemi. Lo sport con il calcio e la prima sconfitta stagionale per la Juventus. Vediamo. Altro che controsorpasso. La Lazio batte la Juve dopo 16 anni, volando ad appena tre lunghezze dai bianconeri. È un campionato aperto, come dimostra la classifica Inter 38, Juve 36, Lazio 33. Quella dell'Olimpico è stata la gara più bella della stagione. Intensità, emozioni e stadio pieno. Cristiano Ronaldo è tornato a segnare su azione dopo 49 giorni. Una rete che è il manifesto di ciò che chiede Sarri. Di bala, Ronaldo, Bentancur, di nuovo Ronaldo. Flipper perfetto. Ma non è bastato. La Lazio ha ribadito di essere la squadra più in forma, dimostrandosi solida e a tratti spettacolari. Stracoscia l'ha tenuta a galla nei momenti decisivi. Luis Felipe, l'aria animata, assistito dalla classe di Luis Alberto. Il resto l'ha fatto la giocata da fuoriclasse. Dimilinkovic, Savic, controllo di destro ed esecuzione di sinistro. Una rete splendida, preceduta dall'espulsione di Quadrato per fallo da ultimo uomo su Lazzari e seguita dal rigore di Immobile respinto da Scesni. Bravo anche nel ribattere la successiva conclusione dell'attaccante. Il sigillo di Caicedo in pieno recupero ha poi chiuso i conti, condannando la Juve Sarriana alla prima sconfitta della stagione. Ancora una partita senza vittoria per il Napoli, che tra campionato e coppe non vince da nove gare. A Udine, finita con un pareggio, il primo tempo della squadra di Ancelotti è da incubo, gioco didascale, con ragnatela di passaggi orizzontali inutili, confusione nel costruire, distrazione nel difendere. E così la rete di lasagna è la conseguenza di tutto questo. Molto meglio la ripresa, con l'inserimento di Llorente al posto di uno spento Insigne. Da quel momento si è visto un Napoli diverso, più voglioso, attaccato, segnato con Zielinski, frammenti della squadra di un tempo, ma non è bastato per ritrovare la vittoria. Nel primo anticipo di giornata l'Atalanta è tornata al successo sul terreno amico, ritrovando almeno per una notte il quarto posto in attesa di Sassuolo Cagliari. La perla di Maninowski e rigori di Muriel hanno risposto alla doppietta di Di Carmine, poi sul sotto vincente di James City all'ultimo affondo e oggi va in scena. Il resto della quindicesima giornata, partita di cartello, il posticipo Bologna-Milan. Oggi in Scozia invece si chiudono gli europei di nuoto, Italia grande protagonista, ieri argento per la Pellegrini. Il suo sguardo è puntato verso le Olimpiadi del prossimo anno, quelle che segneranno il suo canto del cigno dopo quasi un ventennio, percorso tutto in apnea, tutto di corsa. Ma anche un evento solo apparentemente minore come gli europei in Vasca Corta può costituire una tappa importante. Una crisi intestinale ieri mattina avrebbe potuto tagliare le gambe alla divina del nuoto azzurro, che certo non aveva e non ha più molto da dimostrare. Ma la sua proverbiale grinta ha avuto la meglio anche sulla cattiva sorte. Ha stretto i denti e sino a pochi centimetri dall'epilogo eravamo pronti a dire che sì, anche stavolta ha avuto ragione lei. Fra fede e la medaglia d'oro, quattro anni dopo la doppietta 200 staffetta a Netania, ci si è messa un fulmine rosso, la britannica Anderson. Si è nascosta per 175 metri per poi beffare l'Azzurra e le sue rivali di sempre, Emskerk e Brun, nuotatrici che gara dopo gara hanno provato negli anni a sbarrare la strada alla Pellegrini. Di anni ne sono passati quasi 20 e chissà se la divina ha in serbo per i giochi olimpici un altro ex voa l'ennesimo. E se per fede la leggenda continua, possiamo anche dire che la sua eredità è proprio in ottime mani. Sulle note dell'inno nazionale hanno festeggiato Martina Carraro ed Arianna Castiglioni, 48 anni in due. Una doppietta sui cento rana che può definirsi un ottimo punto di partenza in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Quelle che, possiamo esserne sicuri, saranno ancora una volta, come Atene, Pechino, Londra e Rio de Janeiro, quelle della Pellegrini. È tutto, il telegiornale torna alle 13.30. Adesso le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona e poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Edgardo Gulotta. Vi auguro una buona domenica. Grazie.